Mi presento, sono Pietro Partescano e lavoro in Subito.it come Data Architect. Quello che vi racconto oggi è una brevissima storia della nostra esperienza nel mondo della replica logica. Tutto iniziò più o meno due mesi fa con un nostro collega da Oslo che mi chiama e dice avete una grande opportunità, abbiamo una grande opportunità per voi perché non proviamo a mettere in replica la nostra base dati di produzione con una piattaforma esterna dedicata all'analisi. Fantastico, perché no? Proviamoci. Ci sono un paio di constraints, qualche piccolo problema. Uno non è un Postgres, nessuno è perfetto. Possibilmente non dovrebbe avere impatti o quantomeno dovrebbe avere impatti minimi sulla nostra produzione, ma dovrebbe anche avere impatti per come dobbiamo implementarlo, l'implementazione dovrebbe avere impatti minimi anche su questa piattaforma remota. Questo è fondamentalmente che vuol dire che non possiamo scriverci il nostro classico batch notturno che raccoglie i 5 milioni di record e glieli spara sopra. Dobbiamo essere un pochino più furbi, possibilmente implementare uno stream di dati continuo e il più uniforme possibile, diciamo. Il tutto garantendo un ritardo fra le due piattaforme il più contenuto possibile. Qualche mese prima, alla fine dell'anno scorso, noi abbiamo concluso la migrazione a Postgres 95 dalla 9.2, se non sbaglio, e una delle caratteristiche che ci siamo portati a casa era la replica logica. Questo progetto sembrava quasi perfetto per provare a utilizzarlo. Due mesi fa abbiamo buttato giù un primo pochino, un piccolo esperimento fondamentalmente era costituito da una copia del nostro database di produzione un output plug-in che è un componente necessario affinché la replica logica funzioni lo scopo dell'output plug-in è quello di convertire lo stream di dati che arriva dal wall in un qualcosa che può essere del testo, nel nostro caso era un testo formattato come JSON. Un tool che chiameremo producer, in prima istanza era un piccolo script python e in una seconda iterazione abbiamo preferito convertirlo in Java. I ruoli erano, il Postgres generava gli eventi, il wall to JSON convertiva questi eventi in un formato JSON, il producer si sottoscriveva al Postgres e consumava questi eventi inviandoli a questa entità esterna che chiamiamo appunto data platform. Tutto è andato abbastanza bene in verità, abbiamo dovuto reiterare un paio di volte il progetto e ci siamo apportati a casa un paio di considerazioni secondo me che in verità volevo anche condividere con voi. Implementare in produzione la replica logica di per sé non è un grosso problema, non è complicato se si parte soprattutto da, il punto forse un pochino più ostico è l'output plug-in che fondamentalmente è una libreria in C, se si parte con qualcosa però già di fatto e la si customizza non è nulla di impossibile. garantisce ottime performance, praticamente ha un impatto nullo sulla produzione e per mezzo dell'output plug-in fondamentalmente si può configurare come si vuole l'output la cosa complicata è poi consumare gli eventi, ma questa è un'altra storia ragazzi. Ci sono domande, non lo so se è previsto. Visto che c'è 30 secondi e volete domande? Sul serio Beppe? Va bene? Veloce Cosa avete usato per consumer, per curiosità? Kafka, roba del genere? Il producer dove scaricava i dati? Kafka, Confluent Platform. Grazie